Se non ascoltate il Narco Corrido, siete delle mezze calzette e niente regali a Natale. Il Narco Corrido è il gangsta rap del ventunesimo secolo. I testi sono ruvidi, la musica è vietata e il vero spettacolo è lo swag. Quel bel maschione è il Cido, il corrido più famoso del mondo. Guadagna milioni di dollari ogni anno con i suoi dischi. Se non fosse così vicino a Santa Blanca, lo vorrei come padre dei miei figli. Questo macio caliente scrive e canta canzoni che narrano le gesta dei criminali del Santa Blanca, dalla Bolivia a Culiacan. Il Cido, vero nome, Marcello Rios. Non è cattivo, ma canta come se lo fosse. È in stretti rapporti con i pezzi grossi del Santa Blanca. La chiesa del cartello, la Santa Muerte, sponsorizza un tour promozionale e un concerto a Malca. E il Cido solleverà il morale e diffonderà la buona novella del Santa Blanca. Possiamo mettere le mani su un membro esterno con contatti all'interno che ha tutto da perdere. Se facciamo rivoltare il Cido contro i suoi amici, ogni pubblico ministero dell'emisfero occidentale tesserà le nostre lodi. Catturatelo, ma con delicatezza. E non toccate la sua bellissima faccia. E non toccate la sua bellissima faccia.